Il tempo passato numerosi erano i concorsi dedicati alla cinematografia Savona e numerosi erano quelli che vi si dedicavano, professionisti e non. Quest'anno la provincia di Savona ha pensato di riesumare questi concorsi, visto che con la videocamera oggi è possibile comunque affrontare discorsi di questo tipo. Il concorso che partirà in questi giorni, partirà da oggi e durerà fino al 28 ottobre, è un concorso per video amatori, diviso in due categorie, cortometraggi e videoclip, permetterà alle persone che hanno la vena artistica di cimentarsi per la promozione del territorio nostro Ligore, soprattutto dalla provincia di Savona. Lo slogan di questa manifestazione è «Filma la tua provincia, firma il tuo successo». Pensiamo di fare una cosa bella, importante per il nostro territorio e anche per chi vincerà. I premi sono un montepremio di 6 mila Euro, diviso in due sezioni, e quindi alla fine penso che verrà un bel prodotto. Quindi una videocamerina in casa, non soltanto per fissare i momenti felici della famiglia, ma anche per avvicinarsi alla realtà del territorio. Sì, certo. Il concorso prevede parecchie categorie su cui praticamente poter partecipare. Ho detto cortometraggi e videoclip, per firmare che cosa? Artigianato, enogastronomia, le bellezze del territorio provinciale, i momenti artistici e anche gli eventi culturali. Per ritirare i moduli? Per ritirare i moduli basta recarsi o negli uffici della PT, presso gli IAT, informazione e accoglienza turistica, oppure scaricare i moduli da internet sotto il sito www.provincialisavona.it. www.provincialisavona.it.it www.provincialisavona.it.it